Questa non è una salsa, è un bucontini con ricotta e nonci! Coccalina, cocalina, 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 cocalina. Non importa se hai il compasso, a far bene il primo passo, basta l'orlo di un bicchiere, con il pane sul tagliere. I dischetti ritagliati devono essere imburrati, con pellicole involtati e nel frigo sistemati. Coccalina, cocalina, 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 cocalina. Con la ciotola prendete, mascarapone ci mettete, per far bene queste cose, grammi a tanta e giusta dose. La ricotta è di dovere, per far grande il tuo piacere, d'olio buono a un mestolino, fa il sapore più genuino. Coccalina, cocalina, 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 cocalina. Schiaccia, unisci, frulla e sbatti, perché il tutto si compatti. Salamino e pepa un poco, come fa ogni buon cuoco. Quando è ora di servire, il tuo frigo devi aprire, ed il pan che ha imburrato dentro il forno va passato. Poco poco quel che basta per torare un po' la pasta, a duecento gradi in forno spalma sopra, torno torno. Con la noce a terminare, metti sopra a decorare, quante vuole la mattina.